Allora, ho scelto di chiamare l'album La Luna, beh, perché? Per tanti motivi. Allora, il primo perché sono una persona un po' lunatica, il secondo perché il disco è un disco un po' lunatico, ci sono tante canzoni diverse, alcune elettroniche, altre molto suonate. Mi piace La Luna perché è un'immagine molto femminile, molto diva. All'interno del disco c'è un pezzo che si chiama La Luna Storta, che ha scritto Tricarico, su cui ho lavorato anche io e mi sono divertita molto, penso che è una canzone che mi racconta molto bene. E poi perché mi piace molto l'idea, per esempio, che viene da Vasco di raccontare, di cantare alla luna, no? Di dirlo alla luna, può darsi che porti fortuna. Allora, le collaborazioni dell'album sì, sono tante, sono molto contante perché ci sono autori molto diversi tra di loro. Il primo è Tommaso Paradiso, io lo conosco poco come persona, però di lui mi piace molto l'ironia, gioca molto con la musica, con le canzoni. Poi c'è la collaborazione con Francesco Tricarico, che è una persona molto chiusa, timida, però mi è piaciuto come mi ha portato, mi ha mandato questo provino di questa canzone su cui poi abbiamo lavorato insieme, che era un pianino e voce registrato con un telefonino. Allora, oggi voi dovete sapere che gli autori sono fissati, che producono tantissimo i loro pezzi, che è una cosa delle volte un po' esagerata. Invece mi è piaciuto il fatto che lui mi abbia voluto mandare il pezzo così com'era, senza troppi fronzoli. Bravo Francesco, l'ho apprezzato tantissimo. Allora, ho scelto non smettere mai di cercarmi perché, per vari motivi. Allora, il primo motivo è che è un pezzo, secondo me, potentissimo, con una slogan, un ritornello, che è uno slogan che va cantato a pieni polmoni. Lo trovo potente, lo trovo semplice, lo trovo diretto e, secondo me, è quello che serve nella musica e anche a Sanremo, diciamoci la verità. E poi è una canzone molto elegante, mi dà la possibilità di tirare fuori la mia voce con tante sfumature diverse e poi è un pezzo su cui ho potuto collaborare. Sono molto contenta anche di questo perché di solito, giustamente, si pensa che il lavoro dell'interprete finisce dove c'è l'interpretazione e poi lavorare, invece, anche sul testo mi ha dato grande soddisfazione, grandissima. Le sonorità che vi dovete aspettare da questo disco sono diversissime, sono dal blues al pop all'elettronica, ci sono tante canzoni diverse. Il Phil Rouge, come amerebbe dire qualcuno, è la mia voce, il mio modo di raccontare le canzoni e credo che veramente ci sia tanto materiale. Sono contenta anche di aver inserito un pezzo che è una cover, che però è una signora cover perché è una canzone bellissima, non troppo conosciuta, del disco Cambio di Lucio Dalla. No, sì, del disco Cambio di Lucio Dalla e si chiama Domani. L'ho scelta perché è un pezzo pazzesco e una grande cover. Mi raccomando, seguitemi a Sanremo su tutti i miei canali, su Instagram, Twitter, Bevo, Facebook, Tumblr, Tinder... Ciao, vi aspetto, buon Sanremo!